Per me è molto importante lavorare con i studenti perché noi tutti siamo studenti e io posso ricevere qualche cosa, le nuove idee dei studenti, le domande dei studenti abbiamo bisogno, noi vecchi musicisti se non vogliamo essere troppo rutinico abbiamo bisogno di questo e per me è importante anche per i lavori che vengono in futuro per me. Mi ricordo 40 anni fa o terribile 50 anni fa quando potevo sentire ai grandi direttori d'orchestra per la prima volta e io volevo fare delle cose differente ma sono stato agitatissimo di vedere Karajan o Klemperer, ho visto anche Klemperer e questo credo che mi ha formato tutta la vita queste esperienze che ho fatto con 20, 22, 23. Naturalmente spero che fra 30 o 40 anni loro si ricordano alle recite che ho fatto con loro. Io non credo che si può dare nuove cose da Gianni Schicchi perché Gianni Schicchi è un miracolo, Gianni Schicchi per Puccini è come Falstaff per Verdi o La tempesta per Shakespeare. Salieri è un'altra cosa perché io credo tutti i musicisti sanno da questa opera, sanno perché imparano nell'accademia, nella scuola che c'è una opera, c'era una opera molto famosa, Salieri prima la musica dopo le parole, ma io credo nessuno conosce l'opera, solo sanno che l'opera esiste. Per me è stata la stessa cosa. Una volta, forse 40 anni fa, 45 anni fa, una volta ho visto la partitura in Manon e io scopro che ci sono tante bellissime cose e si capisce oggi che Salieri era Salieri. Quando ero giovane tutti hanno detto che solo Mozart esiste in Vienna e Salieri è stato geloso con lui. Salieri è un gran maestro e io sono molto contento di aver fatto questa esperienza. Salieri è un gran maestro e si dovrebbe suonare più Salieri, credo.